si è un applauso ancora a Jesus voi siete pronti a ballare un po'? io ho qualche pezzo anche nuovo che ho portato da Cuba e voglio che non balliamo perché mi vedete vestito così non vuol dire che non balleremo anzi, balleremo come? siete pronti? mamma mia, ma io non vi vedo mi ascendi la sala io voglio vedere il pubblico è l'aliquinine più grande che ho posso vedermi? scusa, ecco allora, pubblico scusate, spegni, spegni che dà fastidio, spegni sulle mani vediamo, iniziamo con le mani su iniziamo con le mani su, così vai, tira la musica destra a sinistra oh, oh, oh ehi, via però coppia le fucce guarda che lo sente dietro a te luce andiamo, solito mi raccomando destra a sinistra la cuffia voglio andare i soldi che te calento e pari che ti calento il po' Sì Sì Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.